Benvenuti al telegiornale quotidiano sul mondo dei motori di ruota in pista. Lunedì 5 ottobre 2015. Ford. Ford ha confermato che la produzione annuale della nuova GT sarà limitata a 200 esemplari. Almeno la metà delle unità disponibili della supercar sarà destinata agli Stati Uniti. Il resto andrà in quei mercati dove la presenza di Ford è più forte. Ford GT è equipaggiata con un propulsore V6 Twine Turbo EcoBoost 3.500 da oltre 600 CV di potenza, abbinata ad una trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti. Romeo Ferraris. Ultima creazione su base 500 del preparatore Romeo Ferraris. La Romeo S è una vettura che coniuga prestazioni e forte personalità in un pacchetto esclusivo cucito su misura di ogni cliente. Le prestazioni sono incredibili. 248 CV, da 0 a 100 km orari in 5,5 secondi e oltre 250 km orari di velocità massima. Disponibile in versione coupé e cabrio Romeo S si distingue anche per l'estetica particolarmente curata, con sedili in pelle con imponture verdi a vista, verniciatura spazzolata verde rubino, cruscotto in tec e rifiniture in carbonio sul volante e nei particolari esterni. Fiat. Una nuova Fiat 500 equipaggiata con bicilindrico Twine Air Turbo 900 da 105 CV è esposta fino al 12 ottobre all'ingresso della Galleria d'Arte Moderna di Torino, che ospita fino al 31 gennaio 2016 la mostra Clon Monnet, i capolavori del Museo d'Orsay, di cui Fiat è sponsor. La vettura in esposizione è un allestimento Lange con tinta di carrozzeria bianca. A domani per altre news.